La vada spizzata da Dalli, l'arrivo per Nanteschi. In mezzo alle forenzioni, Gansfus, ancora forenzioni di sinistro. La vada viene ancora ribanduta, tutti amanti, tutti amanti. Noi abbiamo giocato male, siamo scarsi su questo, però tutto sommato meritavamo di andare noi. La delusione è doppia, perché siamo scarsi e per il fatto che sia stato eliminato da una squadra più scarsa di noi.